L'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con il SEA, Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a Distanza, propone il Master di Primo Livello responsabile di Laboratorio di Robotica Educativa. Nello specifico, il SEA organizza e gestisce il Master nella progettazione del corso, nella creazione dei materiali didattici, nella loro distribuzione e nell'implementazione della piattaforma. Il Master di Primo Livello, responsabile di Laboratorio di Robotica Educativa, ha durata annuale e adotta la modalità didattica a distanza che permette di seguire le attività anche in streaming, con strumenti di interazione sincrona e assincrona. La robotica declinata nei campi dell'educazione e della formazione sviluppa competenze trasversali. Lo sviluppo di tali competenze è riconosciuto come elemento imprescindibile per l'apprendimento continuo e pone ogni persona, e i ragazzi in particolare, come centro del processo educativo. I corsisti apprenderanno i concetti fondamentali dell'utilizzo delle tecnologie per processi educativi efficaci. In particolare apprenderanno modalità della ricerca e della sperimentazione in pedagogia, principi di problem solving, principi di robotica e applicazioni della robotica nella didattica disciplinare. Il corso si prefigge di formare figure professionali in grado di progettare e coordinare un laboratorio di robotica educativa per guidare i ragazzi a un uso formativo e corretto delle tecnologie. Gli sbocchi professionali di questo master sono l'insegnamento e la collaborazione nelle scuole di ogni ordine grado che stanno utilizzando la robotica educativa e nei centri di formazione che stanno progressivamente utilizzando la robotica come strumento trasversale in diversi ambiti disciplinari, sia scolastici che professionali. Il corso prevede la possibilità di iscriversi a singoli moduli, in particolare Robotica e formazione, Principi generali per la robotica didattica, Summer School di Robotica. La Summer School avrà uno svolgimento residenziale, ma potrà essere seguita in diretta streaming, compresi i laboratori. A tutti gli iscritti verrà fornito un kit di robotica educativa che permette di fruire e sperimentare i laboratori di robotica anche a distanza. Il kit resterà in dotazione agli iscritti anche dopo il termine del master. Inoltre è prevista la collaborazione con la rete di scuole per la RoboCup Junior Italia. Il master di primo livello responsabile di laboratorio di robotica educativa non è fantascienza, ma è la nuova frontiera della didattica e dei processi formativi.